E' l'unico partito che è visto con attenzione Perché si pone anche in una posizione scomoda Però ecco E' apprezzato dalla gente E questa è la nostra soddisfazione Perché stiamo Ha preso meno voti di quante preferenze Ha preso Berlusconi alle europee Preferenze personali Adesso comparare I tale valori con Berlusconi Con la persona sola Adesso questo mi sembra eccessivo Infatti è incomparabile Incomparabile La posizione dei numeri Sì ma di comparare con i numeri Berlusconi Con l'Italia dei valori I numeri sono elettori però Non ha bisogno di aiuto Non ha bisogno di aiuto Ma prego prego Sa perché dico questa cosa? Solo perché ha detto il collega Ferrado Che aveva avuto qualche difficoltà di interpretazione Solo perché cerco di essere di aiuto Quello che diceva prima Però vabbè subito Il sinuro verso l'Italia dei valori Lanciato da De Noffi Però c'è un gruppo all'interno del PD Che parla Che si interroga di politica Nella PDL non mi pare Che questo stia accadendo Sorsi Ma Interposizione Sentiamo Sentiamo Allora secondo me È importante perché Al di là della constatazione immediata C'è una constatazione indietro Spalle e anche nel futuro Allora nel PDL Nell'Italia dei valori E nella Lega C'è molto meno dibattito Perché ciascuno di questi partiti È un leader Nessuno Cioè non sono sullo stesso piano Alcuni sono più leader Altri sono meno leader Alcuni si atteggiano Ma non importa Sono riconosciuti come tali Nel PD mancando il leader Vengono alla luce I problemi Che tutti hanno Al di là del leader Ma perché hanno tutti questi problemi? Perché in realtà Sta cambiando il sistema Sociopolitico E in Italia Come altrove Si sta andando Per forza Alla riaffermazione Di alcune autorità centrali Che in Italia Per esempio Sono rappresentate Da Berlusconi Ma non è che debbano essere Per forza Di un colore politico Perché in Spagna Per esempio Sono rappresentate Da Zapatero In Francia Da Sarkozy In Russia Da Putin Eccetera Eccetera Allora Il problema è che i partiti Così come la gran parte Degli elementi Da democrazia delegata Hanno fatto In gran Parecchio Il loro tempo Hanno un valore Molto meno forte Di prima Non lo metto in dubbio E che lei non è d'accordo Non si è d'accordo E serve Siccome stiamo andando Verso quel genere di cosa Dobbiamo scegliere Se vogliamo essere schiavi Come in America Dove comandano Soltanto le lobby O come succede in Europa Tra l'altro anche in Francia Avere una possibilità Di condizionare In parte la politica Tramite la partecipazione Diretta Tramite la maggior parte Della mobilitazione E della partecipazione A questo punto I partiti Se hanno Possono avere un ruolo Se hanno un vero leader E se un leader È anche capo di Stato O capo di governo Il PD si trova A mio avviso In difficoltà Perché non è Perché Perché non ha Perché è rete Di una democrazia delegata Non ha voluto E questo per me È un Cioè È al loro È al loro vantaggio Non ha avuto Rispetto all'Italia Dei valori La decisione assoluta Di voler difendere Il vecchio E le oligarchie È piuttosto combattuto Ma non ha L'abitudine Non ha la mentalità Proprio per la democrazia diretta E per la vera partecipazione E non ha ancora capito L'importanza Dell'autorità Quindi il PD è in un guado Gli altri partiti Secondo me Stanno meglio in salute Tutti i quali Mi sembra Non ha Perché si è passato Ormai da un leaderismo collettivo Che c'è la prima Cioè I partiti Oggi c'è un leaderismo individuale Tant'è che Su 5 partiti Che stanno in Parlamento Quattro Quindi il PDL L'Italia dei Valori La Lega E l'Udc Hanno Un leader Che è Un leader individuale Si l'Udc è più che altro Il suo Ma sul partito Invece non sono d'accordo Perché il partito È un'istituzione Cioè finché la nostra Costituzione esiste Nella misura in cui Non la cambiamo I partiti Sono strumenti Di democrazia Sono istituzioni Di democrazia Di mediazione Della rappresentanza Ed è evidente Che il PD Sta facendo Effettivamente Una grande fatica A livello nazionale Per strutturarsi Perché poi la mediazione Che è fallita Sì ma Voglio dire Questo è frutto anche Del fatto che diverse culture Ma è fallita da 60 anni 67 anni La mediazione Guardi Io penso una cosa Il partito Democratico Non godrà Probabilmente Di buona salute Così come Non godono Di buona salute Tutti i partiti Che si stanno Adeguando A un sistema Bipolare E quindi maggioritario Però Io farei Qualcuno sta bene In salute Adesso Almeno non importa Perché non appartengono A nessun partito Ma Cioè Il PDL E l'età Deveoli Stanno benino Ma Il PDL sta bene Perché c'è un elemento Aggregante Che si chiama Berlusconi Non c'è un elemento Aggregante Non c'è più Non c'è più Possiamo litigare Come classi di genere Ci sono anche Appetiti mortificati Probabilmente Diciamola tutto Non c'è questo Scontro Di visioni del mondo Antitetiche Contrapposto Di scuole di pensiero Dei peripatetici Come direbbe La signorina La nostra professoressa Non ci sono I presocratici Non ci sono I seguaci di Nietzsche C'è qualche Appetito mortificato Insomma Cerchiamo di chiamare Le cose con loro nome A questo punto Come facciamo noi Davanti a questo scenario Lo chiedo A Gabriele E poi a Fernando A trarre A ricavare Un elemento Che ci possa indurre Nell'analisi politica Al di là No? Degli appetiti Delle Dei coltelli Degli omicidi Dei feriti E dei morti E dei morti Come facciamo? Per quanto mi riguarda Io penso Di avere un sentimento Che non sia poi Così Isolato Cioè quando L'argomento Della politica Si sviluppa Come si sta sviluppando Adesso Che tutto sommato Sembra Il mercato Dei tappeti È qualcosa A cui i politici Sono obbligati Perché Effettivamente Si tratta In gran parte Del loro mestiere A prescindere poi C'è chi lo fa per passione E c'è chi non lo fa per passione Ma devono per mestiere Seguire questi meccanismi Desueti Che stanno marcendo E infatti Alla fin fine Chi sarà Il candidato Chi non sarà il candidato Penso che non importi Quasi a nessuno Neanche gli stessi calabresi No Penso che in fondo Non sono così eccezionali I calabresi No Io sono molto impopolare Comunque Comunque Abbiamo la pubblicità Pubblicità Eh non è così La calabrese Siamo tornati Per ascoltare Adinolfi Terza posizione Ma anche Soccorso Poi parleremo Di soccorso sociale Perché è interessante Che compiva Un'analisi Anche No Dell'elettorato calabrese No Io non Non pretendo Di conoscere L'elettorato calabrese Proviamoci Proviamoci Io quello che voglio dire È una cosa Che praticamente L'Italia sta cambiando Come tutto Sì Tutto sta cambiando L'Italia cambia A più velocità Almeno a tre Cioè il sud Cambia con una velocità Diversa rispetto al centro-nord E la periferia del sud Cambia con una velocità Diversa rispetto al sud Quindi è possibile Che certi discorsi Cioè diciamo Certe tematiche Certe battaglie Antiche E tutto sommato Inutili Perché poi dopo Sono inutili Perché poi Sappiamo benissimo Qui mancano le infrastrutture Mancano i soldi Manca l'intervento Manca l'interesse Manca tutto Quindi alla fine Chiunque sia il governatore Della regione Ammesso che lo faccia Per passione Non avrà grandi possibilità Di fare qualche cosa Il punto essenziale Secondo me È quello Di andare oltre Cioè capisco che chi Fa parte di partiti Adesso Ha la necessità Di aggrapparsi all'immediato Ma bisogna andare oltre Andiamo oltre Come si va oltre Si va oltre secondo me Cercando di rafforzare Il più possibile La democrazia diretta Come alleata Della democrazia autoritaria Facendo saltare La democrazia delegata Che è quella Che ha creato Tutti questi disastri E siccome la tendenza A mio avviso È ovunque quella Bisogna agire Il più possibile E il più velocemente possibile Per fare queste Ricomposizioni popolari Ma dove la gente Si vada A conquistare I propri diritti Senza delegare A qualcuno Che gli passa A regalare dall'alto Perché questo non esiste Il Parlamento L'ha già esautorato Berlusconi Ma infatti Berlusconi Per molte cose È un gran duomo Ci sono delle cose Sulle quali Non sono d'accordo Con Berlusconi Ma grazie al cielo Berlusconi Ha esautorato il Parlamento Certo Grazie al cielo Magnifica sta cosa Sta cosa è bellissima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti